Exdoor Artics, oggi vi presento questo ultimo arrivo, si tratta di Opel Insignia Sports Tourer 2.0 di cilindrata, 174 cavalli, allestimento Elegance, di questo particolare colore Stone Metal Qui troviamo cerchi lega da 17, spostandoci nella parte retrostante troviamo cristalli fumè Portelloni, su cui troviamo sensori di parcheggio posteriori che poi ritroviamo anche nella parte anteriore del veicolo Retrocamera, giusto per agevolare le vostre manovre E troviamo un bagagliaio direi molto capiente di 560 litri con capacità di espansione del volume abbattendo i sedili retrostanti Doppio fondo con predisposizione per il ruotino di scorta Parte posteriore del veicolo troviamo decisamente molto spazio, questi sedili in stoffa misto pelle in questa trama nero e bianco Attacchi ISOFIX sui due sedili laterali, bocchette per l'aria condizionata e cristalli elettrici Postazione di guida, anche qui molto spazio con visuale molto ampia Parte centrale del veicolo con il pad per la gestione dell'infotainment Gestione del clima, vani porta oggetti, tra cui questo vano a pozzetto Cambio automatico, freno di stazionamento elettronico Volante in pelle a tre razze con tasti per gestione del volume, delle chiamate o comunque della radio Questa vettura è alimentata a diesel, immatricolata nel 2021 e ha percorso circa 62.000 km Potete trovare queste e molte altre sul nostro sito rattix.com